Se volete conquistare i vostri bambini con una deliziosa alternativa per fargli apprezzare le verdure, ecco la ricetta perfetta! I panini colorati agli spinaci. La preparazione è semplice ma ricca di fibre e gusto. Iniziamo soffriggendo olio e aglio, aggiungiamo gli spinaci con un pizzico di sale e cuociamoli per 10 minuti. Quindi lasciamoli raffreddare e frulliamoli con un mixer. Per l'impasto uniamo farina, spinaci, latte, sale e lievito, lavorando fino a ottenere una consistenza omogenea. Copriamo l'impasto con la pellicola e lasciamolo lievitare per 3 ore. Una volta pronto, prendiamo una teglia con carta da forno e formiamo dei piccoli panini. Quindi cuociamo in forno a 200 gradi per 20 minuti. I vostri bimbi adoreranno questi panini colorati e ricchi di nutrienti! Continuate a seguirmi per scoprire nuove ricette deliziose da preparare per tutta la famiglia. Non dimenticatevi di iscrivervi per scoprire altre prelibatezze in cucina!